il terzo gol c'è il terzo gol del bar crystal realizzato da gubitosa si è girato e ha tirato verso la porta battendo il portiere avversario 3 a 0 al terzo minuto di gioco della ripresa quindi riparte in contropiede la squadra in maglia bianca buono l'allungo qui l'apertura su di mario ancora dentro per il numero 12 a porta sguarnita il quarto gol della bar crystal realizzato al nono minuto di gioco